Buonasera, buonasera, ben trovati, nuovo appuntamento con Topic, argomento al centro dell'attenzione è quello legato ai migranti che continuano a sbarcare sulle nostre coste. Perché voglio evidenziarvi i nostri ormai migranti, perché quando sbarcano sulle nostre coste diventano praticamente persone che dovranno in qualche modo vivere le nostre terre, perché voi lo sapete bene, arrivano in Sicilia e difficilmente poi si allontanano per altre nazioni in Europa. è quello che accade quotidianamente. Però io voglio sottolineare un aspetto che ritengo sia importante e fondamentale, quello legato al fatto che coloro che sbarcano sulle nostre coste, e noi ovviamente siamo molto contenti che vengano salvati da morte certa, quando attraversano dall'Africa per arrivare in Italia, quindi in Sicilia. Perché poi nei loro stati di provenienza non possiamo pensare che siano per esempio Costa d'Avorio, Camerun, Ciad, Guinea, Sudan, Burkina Faso, Nigeria, Egitto, Siria e Senegal. Allora, queste persone che scappano, scappano e poi vanno a finire in un centro di raccolta di scappati dalla propria casa? Questo è il punto. Può essere che l'Europa, l'ONU, il mondo intero, non vuole pensare di porre rimedio a una situazione che diventa paradossale, inaccettabile, ma attenzione, non per l'accoglienza. Quindi voglio anche cancellare l'idea che non si possa essere accoglienti. Bisogna far sì che questa gente continui a vivere le proprie terre senza dittatura, senza fame, senza povertà, senza pericolo di morire ogni giorno. Questo è il punto. Perché poi loro prendono il mare in una sorta di roulette russa per arrivare sulle nostre coste e poi quando riescono ad evitare il colpo di pistola degli scafisti o il forte mare che rovescia i barchini e arrivano in Italia e che cosa fanno? Vengono messi in centri di accoglienza che diventano dei lager. Voi immaginate che Lampedusa ora ha 550 ospiti, ne può ospitare solo 250, sono una sopra l'altra, in passato sono stati più di mille. E allora possiamo continuare ad accettare con questa situazione, ah ma noi dobbiamo, ma com'è, che accoglienza è questa? Questa è la mortificazione dell'essere umano, non è accoglienza. Vogliamo essere chiari, lo vogliamo dire bene a tutti coloro che ci ascoltano e che ci seguono. Noi l'accoglienza, l'amore per il prossimo ce l'abbiamo, il rispetto dell'essere umano ce l'abbiamo. Non sopportiamo che possano vivere in questo modo. Uomini, donne e bambini trattati come merce. Questa è la verità. E allora come si può porre rimedio? Non a fare, a chiudere i porti, a chiudere i mari. Bisogna andare sul posto. I senzienti d'Europa devono andare in Africa del nord, nell'Africa sud sahariana e cercare di trovare le soluzioni lì. Perché immaginate, questo lo stanno facendo anche i cinesi, che vanno sul posto a portare benessere questa gente. Non bisogna farla fuggire dalle proprie case, bisogna aiutarla lì. Non deve essere deportata. Perché l'Africa è ricchissima, ricchissima. E allora bisogna fare questo per evitare di vedere quattro manigoldi, quattro delinquenti, quattro bestie, le definisco così senza offesa per le bestie, che mercificano gli esseri umani. Li trasferiscono, li raccolgono provenienti da tutta l'Africa. Avete visto? Vi ho letto alcune importanti nazioni. Come può essere questo? Partono dalla Libia e dalla Tunisia. Quindi in Tunisia e in Libia ci sono dei punti di raccolta dove pagano questa gente perché pensano di trovare una vita migliore. Pensano di trovare una vita migliore. Arrivano in Italia e che cosa fanno? Vanno nei centri di accoglienza, ammassati uno sull'altro, spesso anche a cielo aperto, e poi quando riescono ad arrivare sulla terra, diciamo sull'isola più grande, non Lampedusa, e cosa fanno? Che lavoro hanno? Dove vengono inseriti? Come vengono trattati? Ecco, perché non vi ponete questo problema? Non è una questione di non voler accogliere, ma c'è un limite. Noi italiani, noi siciliani, non siamo nelle condizioni di poterli accogliere. Perché la Sicilia ha una disoccupazione pazzesca, ha una povertà diffusa allucinante. Quindi che facciamo? Continuiamo a far arrivare gente senza poterla aiutare, senza poterla trattare come essere umano? Questo è. E allora dobbiamo porci alla base di questa grande riflessione. E lo ripeto, tutti coloro che hanno qualche compito, mi rivolgo alla politica, tra poco ci saranno le elezioni europee. E allora valutate questa possibilità. Non mandate in Europa gente che non ha visione, che vuole solo mantenere il proprio orticello. L'Europa deve contare in maniera molto importante e soprattutto deve risolvere i problemi dell'immigrazione. Non è vero che non c'è l'allarme. L'allarme c'è ed è sociale. Un allarme devastante per la nostra terra. È devastante. Vogliamo essere realisti? Ecco, io lo faccio a topic con l'augurio che questo messaggio, accorato appello, possa varcare i confini dell'isola e arrivare dove qualcuno deve assumersi delle responsabilità. Ecco, non pensiamo solo alle guerre, perché le guerre si fanno anche in maniera civile, purtroppo, con l'invasione. Ma direte voi, non è un'invasione? No. Che cos'è? Quando per strada vedi questa gente purtroppo che non sa come fare per mantenersi, che cos'è? E non è che è una cosa che mi sto inventando io. In tutte le città d'Italia questo accade. Quindi bisogna porre rimedio, perché se no alla fine la soluzione sarà impossibile. Ecco, allora valutate questa possibilità. Aiutiamo questa gente a casa propria, battiamoci affinché non debbano essere costretti a lasciare le proprie patrie. Questo è importante per fare un favore a loro. Poi se qualcuno vuole venire in Europa, in Italia, in aereo, in nave, lo vuole fare in maniera corretta, ben venga, anzi, è ben accetta, però purtroppo bisogna fare questa riflessione. Io chiudo questo approfondimento sottolineandovi un aspetto che sembra un paradosso. È notizia proprio di queste ore che in Italia ci sono 50 delle spiagge, cioè ci sono tre spiagge che fanno parte delle 50 spiagge più importanti al mondo, più belle del mondo. E una, immaginate, che è proprio Lampedusa. Il primo step dove arrivano i migranti. Lampedusa, la nostra isola, ha la spiaggia dei conigli che è una delle spiagge più importanti e più belle del mondo. Ecco, allora, per dirvi che noi il turismo lo guardiamo con particolare attenzione, dovremo migliorare con qualche spiaggia in più in giro per il territorio nazionale, ma soprattutto, vedete, fuori dal paradosso, noi vogliamo crescere come Sicilia, come il resto d'Italia, rispettando le regole, e l'Italia può mettersi come nazione capofila per far sì che questa gente abbia la dignità di vivere. Questo è importante sottolinearlo. Siamo arrivati alla fine di Topic, come sempre io vi ringrazio per l'attenzione, vi esorto a continuare a scriverci a redazione a chioccio a spazionotizia.it e poi telefonandoci a 379 224 24 20. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.